bell'attività ragazzi, mi sono venuti in questo mio primo video di GameStars adesso vado a dare partite in Raffinio Sprague 22 siamo insieme un torbo, speriamo che sia forte mi divento abbastanza un patto in centrale quindi non parlerò molto è andata male questa, facciamo un'altra andiamo a sicurezza la randura mi potete iscrivervi al mio canale mi potete iscrivervi al mio canale almeno grazie Vabbè, speriamo di volerle mai almeno un città di trofei. Dai Mario, sono morti tutti e due, non hanno vita, dai non ha vita, dai una vittoria, yeah, bello. Andiamo a tirare un'ora, ultimamente fa niente, siamo in ultima frenzio, speriamo di farti, vai, vai, andiamo un attimo qui. Dai Fred, sto facendo tutto io. What? Ma perché non ti ho intestarsi a suono? Ma sto morendo. Ma no, ho toglie tutta la vita, ho la torretta, è molto molto forte. Ma no, ho toglie tutta la vita, ho la torretta, è molto molto forte. Il mio brawler preferito è Bull, il primo c'è l'altro 13, il secondo ci trovo molto molto bene. Perchè rifermi lì? Questo è un po' finale. Un'altra vittoria, non so come abbiamo fatto. Vabbè, questo qui era una prova, vi saluto, spero che vi studiate al canale. Questa è un po' finale.